ciao marco siamo qui con marco cecchini dell'omonima azienda e marco ti volevo chiedere che cosa pensi della richiesta del mercato di vini di pronta beva in anni come questi dove la vigna ci porta ad avere sempre più concentrazione e più grado alcolico beh noi come azienda abbiamo sempre cercato di fare dei vini che siano equilibrati quindi che riescano a comunicare perché per me la bottiglia è una forma di comunicazione un po con tutte le persone e per equilibrati vuol dire devono avere un attitudine a farsi bere che non necessariamente vuol dire che devono essere leggeri ma possono devono essere appunto ben bilanciati in tutte le loro componenti e siano possibili che possano essere bevuti dalle persone più semplici da chi si avvicina al vino per caso per errore perché sono in compagnia sia le persone maggiormente esperte dal punto di vista agronomico il problema diventa un pelo più pressante perché effettivamente la viticoltura che è cambiata quindi con meno produzione per ettaro e il clima tende a portare ad avere dei linee un pochino più alcolici e cerchiamo di ovviare questo problema con la gestione della chioma diversa tenere magari più ombreggiati i grappoli mantenere più folta la parete fogliare e magari anticipando di qualche giorno la vendemmia ma il segreto in realtà cercare di fare nuova comunque che sia matura perché se è matura nel modo giusto al grado alcolico ma soprattutto l'acidità che mette nella freschezza che dà la bevibilità di un vino grazie